Periodo veramente produttivo per Geppi Cucciari che ora dovrà vedersela con una nuova sfida televisiva. Nuova, si fa per dire, visto che, come annunciato da TV Sorrise e Canzoni, la comica e attrice sarà il quarto giudice di Tu si che vales, il nuovo programma di Canale 5 che sostituirà Italia's Got Talent nel palinsesto e che ha non poche cose in comune con lo show di cui prenderà il posto. Come ormai risaputo, Italia's Got Talent, le cui prime due edizioni sono state condotte proprio da Geppi e da Simone Annichiarico, passerà a Sky con Simone al seguito e così Mediaset ha deciso di rimpiazzare lo show con uno molto simile che in Spagna ha avuto anche qualche problema proprio per l'eccessiva somiglianza con il format che ormai tutti conosciamo. Tu si che vales, a differenza di Italia's Got Talent, avrà un pubblico in stile La Corrida e un casting itinerante e ora, almeno in Italia, si arricchirà anche di un altro giudice che siederà accanto agli inossidabili Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Maria De Filippi. Resta un punto interrogativo sul conduttore che, con molta probabilità, potrebbe essere Belen. Qualche mese fa, intervistata da Davide Maggio, la showgirl argentina non aveva né negato né confermato, ma aveva lasciato intendere che di sicuro c'era qualcosa in ballo. Quindi staremo a vedere! Ciao!